Questo riconoscimento che oggi abbiamo presentato alla città va a premiare il lavoro portato avanti da questa amministrazione e finalizzato a mettere in bella mostra le proprie potenzialità. Montesilvano Colle ha sempre avuto un potenziale, diciamo così, espresso soltanto in minima parte. Grazie alle iniziative portate avanti da questa amministrazione, di concerto con i piccoli imprenditori di Montesilvano Colle, siamo riusciti ad avere una vetrina, un palcoscenico nazionale ed internazionale grazie alle caratteristiche del borgo ma anche grazie alle iniziative come il piano di recupero per Montesilvano Colle finalizzato ad implementare le attività commerciali di piccolo artigianato e alle iniziative culturali in merito delle quali va agli imprenditori di Montesilvano Colle che hanno investito in tempi duri, in tempi in cui era difficile farlo e a loro va dato merito della loro sagaccia, della loro programmazione perché avevano capito in anticipo quelle che erano le potenzialità. Questo è un vessillo di cui andiamo fieri e sicuramente servirà per incentivare anche il turismo in tutta l'area di Montesilvano, non soltanto Montesilvano Colle ma anche Montesilvano Spiaggia. Perché l'economia di questo territorio è un'economia votata al turismo, quindi dobbiamo cercare di espandere il più possibile queste potenzialità, implementare il ritorno sul territorio e lo dobbiamo fare mettendo in mostra quelli che sono i nostri gioielli, sia mare, sia pulizia delle spiagge, sia ospitalità, sia cultura enogastronomica ma anche storie e tradizioni.